L'Istituto Comprensivo Ponteganiano Sant'Antonio rientra tra le scuole finanziate grazie al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario del Ministero per i beni e le attività culturali. Mondolibri, questo è il nome dell'iniziativa, rientra tra i progetti autorizzati al fine di incrementare la dotazione libraria delle biblioteche scolastiche. Grazie al finanziamento, oltre all'implemento della dotazione libraria, si potrà inoltre procedere alla realizzazione di incontri speciali con scrittori e illustratori per favorire approcci diversi che superano i confini della didattica e favoriscono interessi soggettivi.